Alessandro Lucarelli conferma l'undici che si è imposto con il Nereto, esordio L'Angelini per il Chieti contro il Fiuggi, recupera Aquilanti ma solo per la panchina, un solo cambio per quanto riguarda la squadra anticolana rispetto all'incontro con il notaresco fuori lo Duca dentro Turzo e di Donatangelo la prima conclusione verso lo specchio della porta si oppone Hamed Mejiri a Kammadu e l'osservato speciale della difesa bianco-rosso-blu schierato al fianco di Fabrizi. La risposta del Fiuggi schierato da Romondini secondo i canoni di un 4-3-3 con Ficara e Potenza e Fall nel reparto avanzato ma è un Chieti attento in difesa propositivo dalla cintola in su che fa incetta di calci d'angolo qui lo schema che coinvolge Mariani e Pietrantonio con quest'ultimo che sfiora il bersaglio. Ancora divisa bianca con risvolti nero-verdi per il Chieti calzoncini e calzettoni verdi Svetta Fabrizi che mette i brividi a Mejiri ma alla distanza il Fiuggi cresce Ficara quindi Hamed Fall che prima dell'intervallo con le immagini di Galvano Coppa non inquadra la porta. Quindi nel secondo tempo subito pericolo per il Chieti con Potenza che colpisce il palo difesa nero-verde colta in preparata e Fall che non riesce a perfezionare. Ancora Fall, altra chance per l'atletico terme Fiuggi sul quale si oppone come può Lorenzo Fusco, pressione del Fiuggi, Chieti che prova a resistere. Ancora Potenza vicino al gol del vantaggio che è secondo tempo per la squadra di Fabrizio Romondini ma il Chieti prova ad alleggerire con il piazzato ad opera di Pietrantonio pallone che non si abbassa a sufficienza. Entra Baldein, luogo di Fabrizi subito nel vivo del gioco, qui corre un rischio la difesa del Fiuggi, esce Hamedu per infortunio non si tratta però di nulla di grave sostituito a scopo precauzionale da Lucarelli. In campo c'è Rodia, fase favorevole al Chieti nel segmento centrale di ripresa ancora Baldea, caccia del gol ma regge la difesa laziale, arriva però il gol dell'1-0. Dell'atletico Terme Fuggi decisiva la deviazione sul tentativo di Gallinari, l'esultanza dei giocatori bianco-rosso-blu. Il Chieti accusa decisamente il colpo a questo punto e concede anche lo 0-2 un mancino preciso di fall sul palo lontano Fuggi a distanza di sicurezza. Il salvataggio nel finale di chiacchia sullo Duca ad evitare il Tris, il Fiuggi replica il risultato ottenuto due stagioni fa con il Chieti, ancora un 2-0 in trasferta, vittoria meritata per i fiuggini. I tifosi del Chieti ad ogni modo applaudono a fine gara i ragazzi di Lucarelli allo Stadio Angelini, Chieti 0, Fiuggi 2. Lucarelli ho visto un buonissimo approccio da parte del Chieti però poi il Fiuggi è salito alla distanza, a mio parere la vittoria è anche meritata. Sì, penso di sì, come hai detto sono saliti alla distanza, gli ultimi 30-35 minuti noi siamo usciti un po' fuori dalla partita, fino a quel momento abbiamo fatto una buona partita equilibrata, potevano segnare entrambe le squadre, dopodiché c'è stata un'inerzia verso il Fiuggi che ha meritato la vittoria. Al di là dei meriti del Fiuggi possiamo definirlo un passo indietro questo del Chieti o comunque ci sono delle cose buone che lei ha visto nel corso di questa partita? No, perché siamo all'inizio quindi cose passi indietro non ci possono stare adesso, ci possono stare degli errori che vanno aggiustati, vanno sistemati, assolutamente solo quello. Noi volevamo fare la nostra partita, ci siamo riusciti in parte e per molto tempo non ci siamo riusciti ma meno male che ci stanno gli errori che si possono sistemare, pensare di stare già al top in questo momento è impossibile. Mister, le faccio l'ultima domanda che riguarda Kamadu perché ho visto che è uscito per infortunio, se ci può anticipare qualcosa sulle sue condizioni? No, solo affaticamento muscolare, oggi era particolarmente caldo e forse lui ha accusato un pochettino, lui come altri, per quanto riguarda il resto stanno tutti bene? Sì, sicuramente all'inizio c'è stato un po' un approccio diciamo contratto ma solo perché stavamo studiando l'avversario, sapevamo di incontrare una squadra importante, una squadra che aveva in attacco dei giocatori che potevano metterci in difficoltà sulla profondità e quindi abbiamo all'inizio, nei primi 20 minuti, abbiamo preparato la partita in questo modo. Dopodiché consolidando un po' il gioco, aumentando i flussi di gioco, aumentando un po' il campo, nel secondo tempo siamo riusciti a riuscire un po' di più e abbiamo creato delle palle e gole importanti. L'obiettivo del Fiuggi? L'obiettivo del Fiuggi è stare nell'alta classifica, abbiamo dei giocatori importanti, non ci nascondiamo, però alla base di tutto c'è la qualità del singolo ma soprattutto c'è un'unione di squadra, si vede in tutto quello che facciamo, quando esce un compagno, quando facciamo gol, questi sono segnali importanti che danno comunque morale e fiducia a tutto l'ambiente. Poi quando si esprime un calcio bello, un calcio pulito contro una squadra veramente ottima credo che sia la cosa migliore e la cosa più bella per un allenatore.